guarda certo qua è la musichetta se sei in punto di morte se senti che la vita ti sta abbandonando ma hai ancora quel bricio di forza e di energia nel tuo braccio dominante firma un testamento a nome Runtime Radio è un piccolo gesto, non ti costa niente, tanto sei morto aspetta però, scusa non avevo preparato a questa cosa che tu hai fatto quindi a un certo punto la vogliamo rifare, farebbe bene è difficile questo è triste però non ti senti bene? stai per morire? sei un passo dall'ultimo respiro dall'ultimo shampoo anche dall'ultimo shampoo ma hai ancora quella forza, quel briciolo di energia per muovere il tuo braccio dominante allora poni la tua firma in calce ad un testamento e nomina Runtime Radio come unico beneficiario di ogni cosa è un solo un piccolo gesto d'amore e permetterà a tutti noi di andare avanti un altro anno bravo, bravo, bravo bravo, bravo, bravo bravo, bravo, bravo